Gas Roberts, sei il mio installatore numero uno. E chi può creare altri Gas Roberts se non lo stesso Gas Roberts? L'ultima cosa che voglio dalla vita è un ragazzino accampato nel mio furgone. Elton, avrei fatto meglio a chiederti di stare fuori. Siamo qui per la sua banda larga. Hai avuto esperienze paranormali? Questo è il mio canale YouTube. Tra poco ci vedrete in diretta dall'Istituto per Pazzi Criminali. Non voglio più avere niente a che fare con i fantasmi. Aiuto! Dei fantasmi mi stanno perseguitando. Ho visto un fantasma. Potete aiutarmi. C'è qualcosa che non va. E dobbiamo scoprire cos'è. Tu non vai in profondità. C'è molto di più da scoprire. Siete in pericolo. Questi non sono spiriti di cari istinti. Queste sono entità malvace. Ben trovati, True Seeker. È proprio un coglione. Per quanto questo imbecille far neticherà cose sullo spazio. Papà? Ti sentiamo tutti. Sarà qualcosa di grande. I russi e i cinesi. Mi stanno spiando. C'è una tempesta in arrivo. Sono fantasmi. Non ho più paura ormai. Dice, è colui che legge l'Incantesimo, io, non deve ingerire più di una sorsata di... di urina. Prima che il rituale inizi.